buongiorno buongiorno da carletto e faustino vai vai io 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 ma vaffanculo no stamattina facciamo un check up per il nonno super analisi eh e qui guardiamo anche il minaccia no 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 le minacce no sei pronto io sì sei carico fanno urletto fanno urletto che sei carico meglio meglio ma vaffanculo no ma buongiorno buongiorno no che famo scasamo scasamo ma scasi ma che scasso che fai allora una sega no guarda t'ho preso la merendina eh perché fai le analisi dopo devi mangiare qualcosina quanto so bene eh ce so io contento ti preoccupa ti tengo la manina mentre ma cammina fammi tenere la manina la fammi tenere la manina guardate ma come si va per fargli scappare da qui diamo un occhio anche al cincillà fattelo controllare sto cincillà vattene fammi va via fattelo controllare ma non c'è niente da fare fattelo controllare guarda quanto sei calmo ma nevosa no le minacce no sei chi si allena eh chi si allena e chi mangia eccola eh io mi alleno e tu mani eh come la mettevo ma quello che ti sei messo a sedere a rubi i coglioni che è? mannaggia che disposto no ma qui è? è una cosa dei scassi dai ciappi di coglioni ha rubito al lato qui fermati mannaggia smettala forca ma no 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 guarda che servizio eh sotto la grondaia ti sono venuto a prendere guarda più là c'è il muro guarda che servizio chi te lo fa un servizio così? chi te lo fa un servizio così? eh? ti qui una volta eh? una volta di qui? tada e ho messo la macchina all'anno eh e dentro saremo stati mi ricordo se siamo stati mezz'ora tre quarti d'ora eh eh attaccato al piove forte eh eh e io Cristo eh e perciò più alla maniera c'era un palma d'acqua mi si molla tutti e dopo che hai fatto? e le fogne non riuscite e dopo che hai fatto? ehi cazzo sono venuto a casa mi dobbiamo cambiare le scarpe che vengono oh è l'agipiano Dio scalzo oh è molla questo muro cazzo che possa venire il culo come il reattore ma perché? ma perché c'è la strada molla è l'agipiano Dio Cristo non che fai fai le sgazzate fai le volate oh ma vabbè ma fai la vento il murchio la macchina è sculetta ma che sculetta questa è quattro per quattro ma che vuol dire che vuol dire tu va piano questo è quattro per quattro ma che ci mette il carpo per gli forti quattro per quattro si fermate Dio scalzo no do p***ate chi è salito non vedi è pari sulla trombetta del reggimento la trombetta del reggimento è salita è salita bello di Roma fam di Dio scalzo no triplo triplo le vuole la benedizione subito benedicus bovis impotentis Deus benedicus bovis bestemmiorum ameeeeee smettelo scemo tu sei lo scemo del reggimento nonno scaricato tutto eh? porca maiale questo era dove lavorava nonno Faustino qua c'era un magazzino eh? non c'è più niente ma il pioppio porca maiale ancora c'è? che fa i pennacchie che mi rompeva i coglioni perchè ti rompe i coglioni? chiudevi la cabina coi vetri chiuse e trovavi i pennacchie dentro qual'è? è quello il pioppo? si eccolo il pioppo abbiamo fatto un bel giretto ma di qui ci vorrebbe un tiratatti ci vorrebbe un tiratatti fermate che ci scendo se gonfio tiratatti te le fa scontato? Dio capo nooo minacce no minacce no qua i 50 grammi di pasta ma mi scusi lei questi strangozzi ristranzgozzati con piselli e prosciutto che dieta è? che dieta è? quella che mua quel cazzo mio e dopo? e dopo le devi affrontare nooo c***a la differenza c***a Beh, chi come questo cane? Chi è? Chi è questo simpaticone? Chi è questo cane? Gli piace la figa? Sì 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 sì, ecco il cane da figa! Chi appa la figa, chi appa la figa, chi appa la figa, chi appa la figa! Guarda come le aggancia! Oggi piove, fuori è mollo! Luxury week su Bidu! Andiamo subito a puntare, questo mi piace! Stai vincendo, un rollo Submariner, guardate che roba! Guardate che roba! Guardate che roba! Guardate che vincita un iPhone 13 a 143 euro Ragazzi è semplice Basta puntare E se entro 10 secondi Non punta nessun altro Vi aggiudicate il premio Finisco qua Di fare un giretto e puntare Intanto vi lascio 10 puntate gratuite Quindi vi iscrivete 10 puntate gratuite Non vi chiede niente nessuno Fate le puntate Sono gratis Quindi iscrivetevi Ma che stai cercando? Una prolunga Ma che c'è da fare? Ma fai i cazze mie I cazze mie Ma che c'è da fare con queste prolunghe? Do te le attacche Qui dentro no? Eh sì Così schioffano Perché? Fermate Ma perché? Ma che stai a fare? Quando si cattano Ma perché si cattano? Ma che vuoi castrare? Le tagliate lì? Ma mettele insieme Ma mettele insieme Ma mettele insieme Ma mettele insieme Ma che c'è Zorro Vattene Ma guarda che sei simpatico No Tu te le rompi i coglioni Ah Ma non c'è? E non c'è? Oh puttana Te l'ha preso bene Mi dispiace eh A me mi dispiace Sta a casa Non c'è? Eh non c'è Niente Niente Venite a casa Venite a casa Venite a casa Venite a casa Che la vita è breve Che la vita è breve Che sciacca Ma dici a tutti Sono Monsignor Stella È il Monsignor Stella E la diocis di Cucurano Ma scoppa adesso è un po' di coglioni No Ma è Monsignor Stella Io sono Monsignor Stella Oh no È il Monsignor Stella Sono io Ma che pare 73 anni Che la vita è breve Ma La tua è breve No Eh Roma Pregate Di chi è il cappello È mio Voi siete un peccatore Ci vuole una benedizione Dovete pentirvi Pentitevi Buttone che Bene Dico Sbagli Bene Sbagli Voi 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 Va bene Voi Voi Va bene Ma il Monsignor Stella Guarda come ride Ma il Monsignor Stella Ti è venuto a trovare Facciamogli Con cui controllare Il Cincillà Io Il Monsignore È tutto strunza No No Voi Voi Tocchiamo il Cincillà Con la Stella Vai Con la Stella I Cincillà Sono tutti Maricani Che risorgi exurgit 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 magica Europa exurgit 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 cincillorum 73 anni e non sentirli e non sentirli e non sentirli ricordati le senti le senti non pensate niente no grazie è bella pelata per me mica per te vabbè ma scusa è bella l'anelbi ma pensavo mi facevi un favore ah per favore l'ho pelata per me e mi sono scottato un po' mannaggia eh grisporto, coraggio sto grisporto che ti ha fatto? 46 anni no, puoi me mangiare ma è bella come il coglione ma hai mangiato finora buoni? è buoni ma non mi facevi nessuno in giù di che sonno? di cazzo mi sono chiamiamo un gallagio levo sta tavoletta da davanti oh levo sta tavoletta levo sta tavoletta da davanti niente telecamere ho appena finito di vedere squid game un po' cruenta un po' violenta però non male dai più che altro ti intrippa parecchio e ti fa riflettere non vi dico altro non so uno che spoilerà non è bello ci vediamo domani vi ringrazio ancora per i messaggi fantastici che mi mandate veramente grazie mille di cuore vorrei rispondere a tutti vorrei stringere tutti ogni volta però un sepole come dicono in toscana ma poi chissà domani dove andrò non c'ho una vagha idea boh vediamo se riesco non lo so non lo so però secondo me da qualche parte andrò domani per un po' di giorni basta non vi dico niente perché sono uno che non mi piace spoilerà buonanotte